Siamo specialisti storici e leader mondiali nel mercato dell'automotive. La nostra esperienza sia come produttore OM che come fornitore di soluzioni in aftermarket ci rende unici. Siamo costantemente alla ricerca di migliori prestazioni e massima efficienza. I nostri prodotti sono progettati per essere autentiche risorse per automobili, veicoli industriali e qualsiasi altro tipo di mobilità nel mondo. Sviluppiamo soluzioni innovative, personalizzate e sostenibili per affrontare le prossime sfide del settore dell'automotive. Collaboriamo con i nostri partner per sviluppare prodotti più efficienti e progettare insieme le strade del futuro. Ci impegniamo a offrire le migliori soluzioni globali durante tutta la vita del veicolo per prolungarne l'utilizzo e l'affidabilità. Ci prendiamo cura dei nostri partner e forniamo loro il miglior supporto possibile. Il tutto per garantire una guida più sicura, più intelligente, più semplice e più intensa. Let's make the world a better road to drive. Let's make the world Nameraka.